Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi cercando animanti dell'internet ho tirato fuori un video molto particolare ovvero ci verrà spiegato yugi in maniera stupida considerando che a breve ci sarà il nazionale e io sono un cane e piccolo spoiler dovrò portarmi un mazzo standard forse questo potrebbe essere il video che fa per me poi è non so se vorrei giocare tempai all'evento però se non lo vuoi giocare lo prendo io molto tranquillamente non preoccuparti non preoccuparti non giocherò all'evento perfetto ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri è sponsorizzati da chi da chi voglio sentirlo dire da 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 fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto di yugi pokemon one piece digimon l'urcana e vines svarsch detto bene vines svarsch vabbè e poi vabbè hanno anche altre robe oltre trading card game hanno fa hanno i box di evoluzione a paldea ragazzi mega hype no no ci è capitato di vedere un magica arpa 1700 euro gallo coglioni questo è un altro discorso e ci verremo denunciati da chi di dovere più avanti ma ovviamente non hanno solo questo avete oltre i trading card game anche funko giochi da tavolo puzzle o vengono considerati giochi da tavolo penso di sì i puzzle sono giochi da tavolo effettivamente credo hanno i lego hanno i lego che sono molto bellini quindi ovviamente se volete un piccolo sconto e supportare questo canale trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per jack store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto giapponese e coreano di yuki poi hanno la roba giapponese di one piece in più hanno anche le gradate e le carte vecchie della bandai di yuki che sono molto belline insieme poi a sleeve e compagnia cantante quindi anche per quello ragazzi il codice sconto e refera il link sempre qua sotto in più se volete liberarvi carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto ragazzi contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo erenz andiamo a guardare il video del rosso facciamolo partire è il mio turno attivo brand fusion aspetta un secondo duellante attivo a sblossum aha e negativo col vai ok nega no ne nega lui e io attivo cross out normalmente quando arrivi a sto punto gli tiri una coltellata per forza cioè è come il classico il classico game di yuki l'unica volta che ho visto una roba del genere era tipo giudizio su giudizio su giudizio minchia o meno siamo arrivati a destinazione dai spiega ne ho bisogno no sul serio questo tizio non sa di cosa sta parlando oh zitto e cosa vuoi fare sono una voce beh io una cazzo di pistola eh a posto grazie stupida voce con in testa si è yuki moderno e si ne parleremo ma facciamo qualche step indietro di circa 20 anni concepito dalla mente geniale metà delle persone che giocano adesso erano tipo degli spermatozoi ma ok i dettagli pare intanto si continuava a segarsi esatto zuki takahashi nel 1996 inizialmente il manga doveva essere soltanto un horror qualunque qualcosa cambiò quando di colpo il giovane artista in un numero settimanale del gioco pubblicò un capitolo dove i nostri eroi giocavano ad un gioco di carte che preneva ispirazione da magic e il suo pubblico vedendo e leggendo questo nuovo capitolo che aveva fatto kazuki e vedendo il gioco di carte impazzito e poi sentendo l'odore dei soldi iniziò a vendere la licenza e da lì kazuki takashi divenne ricchissimo e tutti vissero felici e contenti non saperne di più volevano il gioco di carte così bandai pubblicò le prime carte di yugioh ebbero successo certo però avevano bisogno di una spinta in più allora konami cosse la pala al balzo e pubblicò il primo videogioco di yugioh con delle promo dentro il gioco ebbe veramente un gran successo così tanto che ancora adesso viene considerato uno dei top 3 migliori giochi di carte io qua avrei da ridire perché sfortunatamente ragazzi bandai si è ripresa ha iniziato a fare giochi di carte veri e one piece ci ha superato sfortunatamente ha iniziato a fare vari giochi di carte e gli è andata bene con one piece fine dragon ball non è un gioco digimon non è un gioco tutta l'altra roba che c'è non è un gioco non me ne frega un caso non me ne frega un caso poverino dragon ball gioco che fallisce in tre mesi per la quarta volta diciamo che yugioh è uno di quei giochi di carte che cerca sempre di adattarsi ai loro tempi per esempio le artwork che uscirono all'inizio erano molto dragon questiane se potete notare infatti il gioco che andava più all'epoca era dragon quest e adesso cos'è? io odio questa cosa che qualsiasi cosa sia uscita in quegli anni è citazione a dragon quest tutto tutto non c'è niente che sia salvato da dragon quest non esiste un'idea innovativa no no perché il platform migliore che avevano fatto era dragon quest e l'unica ispirazione che potevi prenderti era dragon quest praticamente yugioh è un plagio di magic e dragon quest e poi esce yugioh se fondi queste due cose un classico gioco di pokemon visto lo sprite di yugioh cos'è che va di moda spesso volentieri in questi tempi moderni già e che artwork ha yugioh? no questo non ha proprio questo vabbè simili diciamo ce l'ha un po' simili io non ne so niente non ne so niente non mi son mai segato su rai eh cioè però c'è mezza community di yugi che l'ha fatto quindi io non ne voglio sapere niente non mi stupisce che il 22enne medio ha un livello di testosterone inferiore a quello di un 70enne di adesso si si siamo messi molto male però ehi l'importante è che voi siate contenti giusto? giusto comunque i nostri amici degli anni 90 grazie al manga settimanale e dal gioco di carte riuscivano ad immedesimarsi no poverina me l'ha messa al contrario numero 106 si ma c'è mano un mazzo si però non è tanto strano nei loro yugi, kaiba e bruchi no fattene via ma allora perché questo gioco è così odiato da molte o alcune persone? no plur toccherà pure a te tranquillo azioni sono infinite ok molta gente ha un effetto Mandela perché si ricorda che era divertente vincere con il proprio amichetto che giocava con il deck che aveva preso 10 minuti prima quindi fichissimo per poi essere veramente convinto di essere forte a yugi oh andare al primo torneo vicino casa prendere fortissime sberle tornare a casa vendere a dare fuoco al mazzo e dire le prime cose che gli vengono in mente su internet su yugi oh guarda questo brutto gioco basta io quinto cattivo bla 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 si probabilmente non hanno mai preso un cazzo in fronte e invece c'è che è più studiato e che cazzo in fronte hanno presi tanti e oramai ci fa il callo cioè ragazzi guardate qua che callo di un cazzo in fronte oppure per le meccaniche di gioco yugi oh come qualsiasi altro gioco di carta che si rispetti ha le sue meccaniche di evocazione abbiamo l'evocazione normale che potete fare una volta per turno ok poi l'evocazione non è vero non è vero non la puoi fare una volta per turno se tu hai doppia evocazione ne fai due per turno se tu hai ultima offerta ne puoi fare cinque evocazioni se tu hai l'ultima offerta nuova te ne fa fare tre se tu hai la magia che si chiama mi sfugge il nome come si chiama la magia che ti faceva fare doppia normal doppia evocazione no 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 quella magia con cioè che l'attivi una volta ed è un mix continuo di due evocazioni non mi ricordo più tipo pietra di qualcosa niente ragazzi cervello fuso farò un disastro nazionale tramite tributo che vale sempre come evocazione normale però per evocazione no l'evocazione tramite tributo può essere anche speciale c'è scritto sulla carta eh vabbè però anche tu non cagar cazzo per fare questo mostro dovete sacrificare una creatura o più creature che avete sul terreno ok quelle speciali che valgono come evocazione bonus e quindi potenzialmente potete spam cliccare finite evocazioni speciali su questa tastiera che va a fuoco in georgia come sta facendo questo simpatico cagnolino con quel bambucetto esistono molti tipi di evocazioni ma quelle principali sono quelle più importanti che bisogna ricordarsi anche se alcune non necessariamente comunque partiamo con l'evocazione rituale semplicemente dovete prendere secondo me questo è un adepto di Mickey Perfect per forza chiunque odia i pendoli ha visto un suo video o ha un cervello doppia carta? evoco 5 da mano da extra deck? ci può stare oggetto A e soggetto B usarle per un rito satanico e poi evocate una bellissima carta rituale usando ovviamente la magia rituale la vedete questa carta viola? vedete cosa sta chiedendo la carta viola? perfetto prendete questa magia fusione attivatela e vedrete che trash più trash equivale a... beh non dirò il nome l'evocazione sincro la quale ha bisogno di un mostro tuner e di un mostro non tuner probabilmente tu le hai capito più da me è gigantesca è gigantesca sta cosa è gigantesca io lo stimo sto uomo è diventato tuo padre? sì, sì assolutamente la cui somma dei due mostri deve soddisfare il livello del mostro sincro sul serio? su My Surfer? brutto sacco di edici di vivente che non riesce neppure a vivere senza impulsi di adrenalina oh, la mia meccanica preferita gli Xyz cazzo miglior meccanica di sempre sì, è davvero semplice questa evocazione adesso, adesso non mi dire che la fusione o l'assincro siano difficili perché uno devi contare i livelli del mostro l'altro c'è scritto sulla carta che carta devi usare adesso un po' meno eh un po' meno è stato uno degli eventi più traumatici della mia vita una volta che mi ha traumato mi ha preso spesso e mi ha sentito molto brutto qualcuno mi aiuta fisch 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 sì, quel tizio è da galera però è stato veramente divertente e per finire i rituali 2 sapete tutti che quando esce un film e fanno il 2 farà sempre schifo ma questa volta sono le reschiglie rituali e sicuramente non causeranno alcun tipo di problema comunque questo tipo di evocazione chiamato anche tappabuchi dalla Master Rule 3 solitamente vede come protagonisti questi mostri che sono i mostri Link i mostri Link che si evocano sempre nella zona extra deck e quest'ultimi grazie alla classificazione che hanno in basso a destra vi indicheranno quanti mostri bisogna usare per evocarli e non importa l'attributo, lo stato, la zona di provenienza o il loro Paypal basta che siano dei mostri sul terreno ovviamente è successo tutto così cosa? non ho capito nulla bene Billy è tempo di continuare la conversazione adesso ti spi... no, fermo non sto capendo veramente Billy andiamo sei sicuro di sapere quello che stai dicendo? per favore dimmi di sì adesso io non credo che le meccaniche siano la cosa più difficile di Yugi penso le meccaniche si intuiscono in maniera abbastanza semplice sono i ruling all'interno o gli effetti da 14 righe che possono un attimo destabilizzare una persona la butto lì poi può essere che mi sbaglio ma sinceramente avendo una soglia dell'attenzione di 3 secondi cioè 15 righe sono un po' tante Billy io ho 4.000 qualcosa ore su questo gioco di merda cosa? come fai ad essere... nessuno rimane veramente contento e se non mi mette quando inizio a giocare questo gioco lo sai bro Billy? cosa? Alex metti scenario 5 era penso bene salve sono un dipendente del Konami che vi spiegherà come funzionano le magie e trappole dato che il signor rosso era ad un funerale voi ce le avete le Pringles vero? in Yu-Gi-Oh le magie e trappole sono fondamentali sa perché sono forti non è vero non sono fondamentali le magie e trappole smettiamo di dire questa cosa samurai super pesante non le usava mazzo su 32 poi però non le usava scusa unic quello è un tumore è un mazzo tumore oh nel senso non so io a dirlo è la community che odia quel mazzo si si va bene però quel mazzo funziona in base alle magie che faccia schifo o meno chi se ne frega ci fanno guadagnare bene le magie possono essere attivate immediatamente e potenzialmente infinite volte a me non si può piacere come riesco a imitare bene quelli di Konami le trappole invece per essere attivate solitamente dovete se 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 aspettarle aspettare un no però ovviamente ci sono delle eccezioni soprattutto quando la trappola ha il testo scritto dentro ma queste cose cosa sono signor Konami vieni non leggi basta è il libretto delle istruzioni ma non deve spiegarmelo lei no no lo fai da solo esiste una cosa chiamata prodotto di merda che avete criticato sempre ovvero il prodotto con due mazzi dove stava dentro Zeus il struggo che ve lo spiegava molto bene non sono stato programmato per questo sono tornato ero a fare delle cose oh no abbiamo l'amica chips però ti piacciono l'amica chips piacciono l'amica chips piacciono l'amica chips no 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 e fu così che neodomino andò distrutta la prima volta non so se te lo ricordi ma vabbè si si mi pareva una fusione una fusione del nocciolo però anche Slife era abbastanza creativo l'hai visto quella? quella era il mio ragazzo ma io non ho capito come si gioca ah beh è molto semplice piccolo Timothy molto 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 ma partiamo dalle basi prendete il vostro amico depresso che sicuramente fuma dato che 4 giocatori su 5 di Yu-Gi-Oh! fumano poi avete bisogno del terreno di gioco che può essere il tavolo la strada un gatto il vulcano di Tahiti e tua nonna le sdraio al mare dove non prenotavi facevi finta di niente ti boscavi lì e giocavi sopra la sdraio così giusto e poi ti allontanavi appena arrivavano i proprietari una volta che avete preso tutti i vostri requi-ment si lancia un dado ed il giocatore che fa il risultato più alto potrà incominciare e nel frattempo l'altro lo guarderà con un sorriso falso mentre urla internamente e pensano tutti gli errori che ha fatto fino a quel punto entrambi i giocatori escono fino ad avere 5 carte ed il secondo giocatore avrà il privilegio di pescare una carta per poi perdere per brick o altre motivazioni tipo saturno che gli piove in testa bene ora che ti sei sorrbito il riassunto sulle meccaniche sei sicuramente pronto a giocare oh come scusa non hai amici parli il tibetano odi la luce del sole e hai problemi di ansia? allora Yu-Gi-Oh! è il gioco perfetto ehi sono io stai a casa e giochi a Master Duel da solo in effetti non tutti vogliono giocare a Yu-Gi-Oh! nella vita reale sta zitta vuoi sempre provare a giocare a Yu-Gi-Oh! online come Master forse è meglio di no quello pensavo di più a questi simulatori cosa io non li ho visti non li conosco signori Konami prendetevela col rosso per me esiste solo Master Duel per testare ne dici? schifo perché no Master Duel? nessun motivo in particolare allora 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 rosso no 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 qua non ci capiamo Max C carta migliore del gioco e il fatto che noi non l'abbiamo è penso un odio che la Konami ha nei nostri confronti però nel senso non puoi assolutamente cioè non puoi dire che quella non sia la carta migliore del gioco e il fatto che da noi arrivi una versione riprendizzata nel prossimo set sicuramente può aiutarmi ad accettare il fatto che Max C non ci sia ma quindi devo giocarci o scegli tu ma scegli tu io scegli tu ma ma tanta gente dice che è brutto e l'altra dice che è ok se sai giocarci e poi ci sono influencer che dicono che è un gioco di merda e io non so cosa e cosa stai facendo scusa pensavo fossi sordo alla fine Yu-Gi-Oh! è un circolo vizioso tu incominci a giocare ti piace un mazzo prendi sberle bonifichi il mazzo spendi 4.000 euro per un mazzo prendi sberle cambi il mazzo prendi sberle prendi il mazzo del tuo avversario gli dai delle sberle cambi il mazzo ricominci a giocare inizi a vincere poi iniziano a dire che il tuo deck è troppo forte quindi te lo toccano quindi prendi sberle di nuovo ricominci a prendere un altro mazzo prendi sberle bonifichi e così via quindi è meglio magic lo sapevo era così scontato ma se guarda mettiti questa banana su per il culo e stiamo a posto qualcuno piace soltanto giocare a Yu-Gi-Oh non credo ci sia un problema ma magic è meglio dai guarda ma magic è una community di 60 anni che stanno tutti per morire di anzianità è potente è potente guarda i formati dai è più interessante e poi abbiamo anche un torneo 2 milioni di dollari voi cos'è che avevano una switch abbiamo una cazzo di switch voi ce l'avete la switch? no abbiamo un cazzo di coniglio da soccorso peluche voi ci avete un cazzo di coniglio da soccorso peluche? no quindi di che cazzo stiamo parlando? suka suka eh? ah esatto sai cosa abbiamo noi? cosa? cos'è che abbiamo noi? ah giusto guarda queste tre divinità egizie incredibili del manga ah va bene ok bro aspetta cosa? ah ah sapevi che la musica di Yu-Gi-Oh Master 2 è fatta da Yasunori Nishiki n-ni-ni-ni-ni-shiki? chi? è lo stesso compositore che ha fatto la musica di Final Fantasy 7 Remake e Princess Connect eh? ok no eh no ma quindi si può giocare a Yu-Gi-Oh nel 2024? una persona normale ti direbbe no devi capire che bisogna imparare è un gioco che richiede tanta skill e questo poi devi capire che non è così brutto noioso riassunto in due parole Power Creep ogni anno o ogni tot anni uscirà sempre un mazzo o una carta che renderà le partite ingiocabili a meno che non giocate quella carta o quel mazzo sto esagerando certo che no succede ogni volta quando fanno un mazzo che letteralmente distrugge le leggi della fisica sì sto parlando di te ma penso che dopo Mina che è proprio la carta che nessuno voleva cioè nessun giocatore di Yu-Gi voleva Mina tutto il resto va bene no non mi sei piaciuto perché accade Elemental Dragon questo gioco di carte purtroppo no non è la stessa cosa rotazioni o modi consistenti 32 di 31 mazzo di drago sì ma stiamo parlando di Mina però ha vinto G.Argia stronzi stiamo parlando di Mina Mina è l'unica carta che tutta la community non voleva certo ne hanno fatto sì anche quelli che la giocavano sì lo so esistono un sacco di formati alternativi ma non fotono a nessuno questo gioco di carte ha un roster di carte ehi ehi tu ehi 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 Tengu Format è il migliore stronzo spesce niente got vaffanculo got formato della vita e basta metti un gioco da 60 anni per questo vado il formato da 60 anni di Yu-Gi-Oh ma vattene azzo azzo eh vabbè capito ti butti su Tengu perché è pieno di ristampe e pagare per 3 dashot so che è un po' fuori budget per te però nel senso per quello ne ho 6 sì adesso vuole fare il fenomeno quelli che hanno stampato dal primo set fino a quello precedente quindi capite bene che no no non è quello è il suo fratello 2 carta con un testo scritto tipo resuscita cingostri è rotto in culo da sono uscita che cazzo però è proprio per questo che lo rende un gioco assurdo tedioso da figli di puttana ma al tempo stesso interessante con infinite possibilità di gioco e questa spaventerà alcune persone divertente so cosa stai pensando me lo ricordo lui lui è palesemente mio padre lui cioè quello che ha fatto penso che non si ripeterà mai nella storia dell'umanità deve avere un premio una corona lui è il re di Yu-Gi-Oh nel momento in cui bisogna dare sodia in carta unica solo a lui sì sì no io Konami Konami lo doveva prendere e santificare sarà San Jeffrey L per sempre andremo a casa sua in pellegrinaggio per questa cosa però alcuni di voi ci stanno ancora giocando e sì lo so che per il boomer medio che ci ritorna a giocare questo gioco può sembrare una partita a code che ha messo perché ha messo io lo amo io lo amo io lo amo ha messo la mappa di code 4 sei contento eh pure per i boomer come te ha messo quello che volevi si vede che non hai mai giocato un gioco decente non ho mai giocato a code come ogni community che si rispetti quella di Yugi ha la sua parte marcia e se dovessi dare un voto da 1 a 10 sarebbe un 7 perché molte volte il giocatore di Yugi o medio vuole semplicemente starsene per gli affari suoi no il giocatore di Yugi o medio sa solo lamentarsi di ogni singola cosa è questo il problema il marcio oltre al fatto che ti rubano i mazzi ma questo è un'altra cosa di cui abbiamo già parlato sì quella partita avere quella mezz'oretta due orette tranquille dove gioca semplicemente al suo gioco di carta preferito e altre volte invece vi ritrovate quella gente che vi urla in faccia perché vuole e cerca di avere ragione su qualsiasi cosa che voi state dicendo più serio puoi semplicemente parlare senza alzare la voce o addirittura ad arrivare le mani e invece altre volte vi ritrovate quei misogeni quei maschilisti o quei yallupati io avrei messo yallupati di prima tutti la stessa identica battuta da bar poi ci sono quelli che si lamentano nel gioco come se fossero all'interno di una relazione tossica quelli che odiano ragazzi ma questa è la verità Yugi o è una relazione tossica ti ritrovi a spendere sempre soldi non ti dà mai soddisfazioni perché non te la dà la vittoria e poi palesemente in continuazione dovrai lamentarti per cose che fa quindi di che stiamo parlando scusa di un certo tipo di mazzo quelli che odiano un certo tipo di giocatore e così via e altre persone frequentano un circolo di Yugi o dove beh parlano di tutti i loro problemi che hanno avuto negli anni benvenuti nel circolo di Yugi o adesso a turno vi presenterete e direte la vostra storia avanti incominciamo ciao sono Ernesto ciao Ernesto dopo la pandemia ho avuto molti problemi ma il principale è stato durante il 2019 ho trovato questo ragazzo con questa carta e mi ha fatto davvero arrabbiare oh mi dispiace Ernesto che cosa aveva fatto? praticamente aveva fatto ciao sono qui per il circolo vabbè comunque sono qui a dare una mano e a dire la mia su questo gioco di carte ci conosciamo tu non che tu si va troppo veloce va troppo sei ancora qui si ok mi sono rotto ok grazie per avervi bravo interessante tu hai capito come funziona il gioco perché io ancora no no però non è neanche spiegato in modo stupido ha sofficietto la realtà delle cose in maniera molto simpatica e divertente vediamo vabbè va abbattato sto video non vedo problemi all'interno di questo video vedo solo tanta verità in più il gioco potrebbe avere cose belle ma non ce le ha e siamo all'interno di una relazione tossica che ci distruggerà dall'interno e che prima o poi andremo tutti in comunità per questo top bene ragazzi grazie mille per aver visto il video fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti cosa ne pensate e vi invito ovviamente trovate il link qua sotto ad iscrivervi al canale del roso merita un po' di supporto soprattutto perché io ho rubato il content quindi mi sembra il minimo di mandarli tutto alla mia fanbase detto questo ragazzi grazie mille per tutto e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti